Buonasera l'Aquila, io vi ringrazio per la vostra presenza sotto la pioggia con il freddo per difendere la Costituzione del resto. Noi sono 60 giorni che io insieme ai miei colleghi consiglieri regionali, insieme ai parlamentari siamo in giro con questo camper per portare in tutte le città d'Abruzzo i motivi del no. I motivi del no sono tantissimi e siamo molto contenti oggi di portarli all'Aquila, tra l'altro di fronte o meglio con alle spalle il palazzo del Consiglio regionale. Quel palazzo dove noi tutti i giorni cerchiamo di limitare da un lato i danni che provoca questo governo regionale e dall'altro cerchiamo di fare delle proposte. Ci dicono che siamo il partito del no. Anche all'interno di questo Consiglio regionale, di questi palazzi, ci dicono che siamo il partito del no, il movimento del no. No. Eppure noi abbiamo presentato una proposta di legge per dimezzare i loro stipendi perché noi ce li dimezziamo già e il Partito Democratico ha votato no. Abbiamo presentato una proposta di legge per abolire il doppio vitalizio e il Partito Democratico ha votato no. Abbiamo presentato una proposta di legge per istituire un reddito di cittadinanza in Regione Abruzzo per tutti i cittadini abruzzesi. Il Partito Democratico ha votato no. Il partito del no è il Partito Democratico e io lo voglio gridare veramente di fronte a questo palazzo perché sono degli ipocriti. Sono loro il partito del no e oggi ci chiedono di cambiare la nostra Costituzione per dimezzare i costi della politica, per approvare le leggi più velocemente. Ci chiedono di cambiare questo cambiamento, questa parola che continuano a ripetere continuamente. Dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare, ma come dobbiamo cambiare? Io vi voglio raccontare una cosa. Fatto vero, a mia madre la settimana scorsa hanno rubato la macchina. È un cambiamento. Per la prima volta mia madre è rimasta a piedi. È un cambiamento positivo? È un cambiamento che qualcuno di voi si auspica? È lo stesso cambiamento che avverrà con questa riforma, con l'abolizione del voto al Senato. Ci vogliono togliere la possibilità di eleggere i senatori per far diventare persone come quelle che sono lì dentro, consiglieri regionali, senatori a vita, con l'immunità parlamentare, in modo tale che possano fare tutto quello che vogliono. Voi ve li immaginate il Presidente di Regione, Luciano D'Alfonso, con l'immunità parlamentare? Lo vorreste? Anche per questo noi voteremo no. Ci chiedono di cambiare, ma in realtà l'unico cambiamento che noi vogliamo è uno solo. Ci dicono che dobbiamo cambiare per avere stabilità di governo, ci dicono che dobbiamo cambiare per avere delle leggi giuste per i cittadini quando loro sono i primi a non approvarle le leggi giuste. Noi vogliamo soltanto un cambiamento in Costituzione ed è per questo che voteremo tutti quanti no. L'unico cambiamento che vogliamo è l'introduzione del vincolo di mandato. Tu sei eletto con un partito e sulla base di un programma, se cambi partito, cambi casacca o voti una legge in contrasto con il programma per il quale sei stato votato vai a casa, il tuo posto lo prende un altro e il governo continua ad emanare leggi nel solo interesse dei cittadini. Questa è la riforma che vogliamo ed è per questo che tutti noi voteremo no il 4 di dicembre. Io vi chiedo un ultimo sforzo, vi dicevo sono 60 giorni che noi giriamo a bordo di un camper, siamo partiti da Montelapiano che è il paese più piccolo d'Abruzzo con 80 abitanti, per finire all'Aquila che è il nostro capoluogo di regione. Io vi chiedo in questa settimana che ci separa quasi dal voto, poco più, di adottare tutti gli indecisi. Fate quello che stiamo cercando di fare noi, parlate con più persone possibile, cercate di convincerle in tutti i modi. Se ognuno di noi riesce a convincere 5, 6, 7 persone, la battaglia sarà vinta. Io vi ringrazio, ci vediamo il 5 di dicembre. Il mio collega in regione Abruzzo, Gianluca Ranieri. Ciao a tutti. Siamo finiti in una realtà parallela, siamo in una realtà parallela, siamo in un romanzo di Orwell, di Dick. Non vi sembra? Non vi sembra? Cioè abbiamo il Miniver, il Ministero della Verità, abbiamo la propaganda di regime che ci ripete costantemente, tutti i giorni, dappertutto, che la riforma è una cosa buona, che la riforma si deve fare. Questo non è un argomento, questo non è un argomento, è importante questo fatto. Perché loro sanno benissimo che una menzogna ripetuta mille volte può diventare una verità e può essere vissuta come una verità. Per questo ci ripetono le cose, ci ripetono delle cose che sono assurde, sono assurde. Perché questo Partito Democratico, Partito lo possiamo chiamare, perché nei totalitarismi, non so se vi ricordate l'Unione Sovietica, mica si diceva il Partito Comunista. Il Partito. Questo Partito Democratico non è più portatore degli interessi dei cittadini italiani, è portatore degli interessi della finanza europea e internazionale. Non sono più i nostri rappresentanti. Ma questa riforma non viene da loro, non viene da loro, viene da lontano. Da molto lontano, viene dal 1989. Vi ricordate che è successo nel 1989, no? Eravamo tutti quanti qua. È caduto il muro di Berlino, è sparito il comunismo, è sparito il comunismo e siamo passati al liberismo economico. Tutti siamo passati al liberismo economico, anche le sinistre. È cambiato il paradigma. E allora le oligarchie economiche, nuove oligarchie feudali, hanno progressivamente, con determinazione, scientemente, eliminato i diritti. Un pezzo alla volta, un pezzo per volta, fino ad arrivare qua. Fino ad arrivare qua. Non so se vi ricordate, non è la prima volta che ci provano in Italia. Ci ha provato la B2, ci ha provato il Gelli, col progetto di rinnovamento democratico. Ci ha provato Berlusconi, adesso ci prova Renzi, adesso arriva lui. Uno che ha avuto il coraggio di dire che il dramma italiano è che la differenza tra quanto guadagna un operaio, tra il profitto dell'operaio e il profitto dell'imprenditore, si è ridotto troppo. Ma vi rendete conto? Siamo o non siamo in una realtà parallela, dove la destra è diventata la sinistra e la sinistra non c'è più. Allora, questa riforma, ci vogliono togliere la libertà, ci vogliono togliere quell'ultimo pezzo di libertà, quell'ultimo baluardo che ci è rimasto. Ma noi non siamo disponibili a questo. Non siamo disponibili. Il 4 dicembre andremo a votare no e manderemo a fare in culo il miniver, la propaganda di regime, Renzi, il menomato morale e tutti quelli che girano intorno a lui. Grazie. Scusate, giustamente mi dicono che devo presentare, in questo caso. Allora, dopo di me, la nostra portavoce in Parlamento, Barbara Lezzi. Ciao, buonasera a tutti. Allora, adesso c'è anche quest'area di terrorismo, le borse, i mutui, i tassi, usciamo dall'euro e chi più ne ha più ne metta, succederà tutto e il contrario di tutto. Io l'ho detto anche ieri sera, sono invece molto tranquilla, perché ogni volta che fanno queste previsioni, puntualmente, si azzerano tutto e sono sparata a vuoto. In realtà stanno temendo per loro stessi, perché se vince il no, significa che il cittadino italiano, così come altri cittadini in Europa e nel resto del mondo, vogliono alzare la testa e continuare a decidere e non a mandare cento tra consiglieri e sindaci con tanto di immunità, perché è vero che noi, nonostante fosse, insomma, non prevista una riforma costituzionale, noi avevamo fatto una bella proposta radicale, e cioè quella di abolire completamente il Senato. Perché è inutile mantenere questi costi dei funzionari di Palazzo Madama, no? Invece no, loro volevano comunque dover ascoltare i territori. Secondo noi, invece, dal momento che è quella la classe politica tra la più corrotta, devono salvare qualche testa. E siccome è una Camera che non si scioglie mai e è a giro, andrà più un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro, man mano che cambia colore, sempre vanno a garantire i pezzi forti. E comunque, signori, il Movimento 5 Stelle, come hanno detto prima i colleghi, perché noi nel Movimento 5 Stelle siamo tutti colleghi alla pari, dicevo, i colleghi sono entrati nel merito, sono andati in giro raccontando e parlando di questa Costituzione. Io credo di questa nuova riforma costituzionale. Io in realtà credo una cosa, che è stato necessario. In molti casi siamo stati ascoltati, siamo riusciti a trovare la chiave di lettura giusta per raggiungere il cittadino. In molti altri casi c'è noia. Non si vogliono molto ascoltare tutte queste parole che hanno a che fare su come si fanno le leggi, sulla libertà, sulla democrazia. Questo è veramente un peccato. Però io agisco e ho agito anche in dissenso dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Perché io molto spesso sono andata al di fuori del merito della Carta Costituzionale. Perché lui, Renzi, ha personalizzato questo referendum. E io continuo su quella scia. Perché bisogna mandarlo a casa. Perché a noi non piace il Jobs Act. A noi non piace la riforma della pubblica amministrazione. Non ci piace quella della buona scuola. Non ci piacciono le marchette in legge di bilancio a De Luca. Alle multilazionali della farmacia. Questo non ci piace. Non ci piacciono invece i tagli alla sanità a carico dei cittadini che partiranno dall'anno prossimo. Tutto questo non ci piace. E Renzi, il 5 dicembre, se ne deve andare a casa perché lui l'ha promesso. E la Boschi, ricordiamo sempre Lady Etruria, lei e suo padre, che hanno truffato i cittadini e ancora non hanno emanato quei decreti attuativi che servono per gli arbitrati, per almeno risarcire queste migliaia di sventurate persone che sono passate per il cappio del padre dei Renzi, del padre della Boschia e dei giovani figli che si sono rubati il governo. Perché lui sta lì. Lui è altro che non vuole governicchi. Lui è un governicchio. Lui sta governando con i voti di Bersani e di Verdini. Lui vuole riformare la Costituzione con Verdini. E quando nel 2013 il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni perché eravamo il primo partito nel 2013, allora nei bar, nelle piazze, la gente non parlava di riforma costituzionale, ma parlava finalmente di un uomo che nelle piazze raccontava qual è la vita vera, quella delle pensioni minime, quelle di chi non ha reddito, quelle che è disoccupato, quelle delle partite IVA e soffocate dalle tasse. Questo si parlava non di riforma costituzionale aspettata da 60 anni. Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto che aspettavano questa riforma? Gli italiani volevano altro. Sono stati loro a imporre questa riforma costituzionale voluta da Napolitano. Sono stati loro a rivolere Napolitano per farsi questa riforma costituzionale e per togliere nuovamente potere ai cittadini. Quando venne nominato per la seconda volta Napolitano, quando venne eletto di nuovo Presidente, signori, entrambi i gruppi di destra e di sinistra, in una maniera aggressiva e violenta, ci applaudivano contro. Perché noi eravamo il corpo esterno che aveva perso, perché avevano di nuovo il dittatore che doveva togliere potere ai cittadini. E questo stanno arrivando a farlo. Vi raccomando, alziamo la testa. Soprattutto nelle regioni, nelle città, nei piccoli comuni, in quelli più poveri. Io sono pugliese, sono meridionale, e so che si sta andando a vendere. A vendere cose che non ci sono, perché in realtà le toglie. Ieri io l'ho sentito con il piano casa, la prevenzione, i terremoti. 45 miliardi, 75 miliardi. Non ci sono. Non ci sono questi soldi. Io lo sfido ogni giorno, gli dico dove sono questi soldi. Ci sono poche centinaia di milioni di euro nella legge di bilancio nei prossimi tre anni. E poi basta. Quando sentiamo parlare di 2020, di 2030, non è vero, i soldi non ci sono. Attenzione a questo. Poi prende, rimessa, programma, riprogramma, soldi già fritti e rifritti. Ma ve lo ricordate lo sblocca Italia? Lo sblocca Italia uscì con le slide. 43 miliardi di investimenti. Dove sono? Erano bloccati. Diceva che c'erano questi soldi fermi lì, bloccati dalla burocrazia. Ma dove sono questi 43 miliardi? E ancora, è tornato vincitore dall'Europa. Ho conquistato 315 miliardi di investimenti con il piano Juncker. Dove sono? Noi prima vogliamo vedere quelli che ha già promesso prima di prometterne altri. Basta, basta. È un no nobile di chi ha la schiena dritta, di chi vuole continuare a decidere e di chi vuole sapere di chi è la responsabilità. Perché quell'articolo 70, chi dice che la Boschia l'ha scritto male perché è un incompetente, sbaglia. Lì Napolitano l'ha scritto bene invece. L'ha scritto perché è un cittadino comune, ma anche noi. Cioè, diciamocelo chiaro, tra un paio d'anni non ti vai più a ricordare tutta quella filippica. E allora ogni volta per sapere una legge da chi è stata approvata, con quale maggioranza e da chi, devi andarti a ricordare l'articolo 70. altrimenti tu, la responsabilità della nuova legge Fornero, dei tagli alla sanità, delle nuove leggi per la buona scuola, non sapremo mai di chi è la responsabilità. Invece noi vogliamo l'elezione diretta anche dei parlamentari con le preferenze. Tutti! Noi non vogliamo essere nominati. Dobbiamo diminuire il numero dei parlamentari, ma la cosa più importante è che io devo essere scelta dal cittadino. Tu devi essere scelto dal cittadino, tu devi essere scelto dal cittadino e se fai male, come sta facendo male Renzi, te ne devi andare a casa! Oh! Grazie tante, Lago, e mi dispiace per questo tempo. Comunque proseguiamo, ci sono gli altri colleghi e mi raccomando. Chi c'è? Chi presento? Enza. Enza Blundo, grazie. La vostra, Enza Blundo. Grazie, Barbara, grazie. Sì, è che abbiamo l'Aquila. Abbiamo ancora altri consiglieri regionali qui che dovranno parlare. Abbiamo ancora ad ascoltare Mirko Busto. Abbiamo la presenza di Carlo Sibilia, Dalila Nesci. Siamo tutti, tutti veramente attivi. tutti che ci stiamo impegnando tantissimo, non solo per dirvi che cos'è questa schiforma, ma anche perché ci stiamo impegnando all'interno delle commissioni con grande lavoro. Guardate che il Movimento 5 Stelle è falso che non ha proposte. Noi le proposte ce le avevamo e anche per la riforma costituzionale ce le avevamo. Vi è stato prima detto da Sara il vincolo di mandato. Il vincolo di mandato è una proposta del Movimento 5 Stelle. È interna ad altre proposte del Movimento 5 Stelle. Noi volevamo che una riforma ci fosse, ma in linea con i principi dei padri costituenti, perché quella riforma, la più bella riforma, la più bella costituzione che abbiamo, non doveva essere stravolta e non doveva essere stracciata. Non devono fare questo, perché quello che stanno cercando di ottenere con un sì vergognoso, perché chi voterà quel sì si dovrà vergognare davanti ai propri figli, perché avrà tolto all'Italia la democrazia e la libertà. E allora noi volevamo sì che ci fossero delle modifiche, ma modifiche in linea con i principi. Quali sono i principi della Costituzione? Sono i principi sani, sono quelli della democrazia, quella democrazia che già all'Aquila fu stravolta. L'articolo 18 ce lo stracciarono all'Aquila dopo il terremoto, quando impedivano alle persone di associarsi, di riunirsi, di poter capire che cosa stava accadendo per quei soldi che venivano destinati e perché ci hanno messo nelle condizioni di non sapere come e con quali priorità e quali pianificazioni stanno ricostruendo la città, che non è vero che è ricostruita, hanno ricostruito solo alcuni palazzi. Quanta gente ancora rimane dentro i piani case a pagare i sose e bollette, a essere vessati. Allora, noi c'è stato tolto il diritto della democrazia. Capite bene che cosa significa? Significa che questo governo vuole stravolgere la Costituzione. Cambia 47 articoli e non quelli che vediamo scritti nella scheda dove andremo a votare. Perché noi andremo a votare e c'è scritto il risparmio, risparmio inesistente. La ragioneria del Senato ha dichiarato che sono 49 milioni più 7,7 milioni che sono per il CNEL, per l'abolizione del CNEL. Quindi non è vero tutto questo risparmio. Quando l'aereo che Renzi si è comprato costa molto di più e quando seriamente la corruzione in Italia sta costando 60 miliardi, ma di quale risparmio vogliamo parlare? Pensiamo ad attaccare laddove davvero c'è il marcio. La lotta alla corruzione non si fa cambiando la Costituzione e trasformando il Senato e togliendo i parlamentari che da 315 rimangono 100 parlamentari. Perché il pericolo è chi sono quei parlamentari. E poi dopo di me vi spiegheranno ancora meglio chi va a fare quel lavoro che in realtà è il doppio lavoro. Consiglieri regionali. Allora noi noi vogliamo che la Costituzione venga salvaguardata. Noi vogliamo con il no che resti la Costituzione. E non è vero che non si possono fare le cose. Finora si sono fatte. Le banche le hanno salvate con questa Costituzione. Non è vero che se vince il no le banche vanno in fallimento. Non è vero che se vince il no la scuola non può avere più la possibilità di vedere i trasferimenti. Parliamo piuttosto di che tipo di assunzioni hanno fatto. Parliamo piuttosto che hanno utilizzato l'algoritmo lo stesso strano algoritmo che avevano utilizzato per assegnare il piano case all'Aquila. Lo hanno usato vergognosamente per distribuire gli insegnanti in tutta Italia. Allora dobbiamo stare bene attenti perché quello che loro sono andati a cambiare sono articoli importanti. L'articolo 70 hanno tolto la certezza del passaggio alle leggi. Prima Barbara ve lo accennava. Hanno messo che il nuovo Senato può disporre e diventerà da un Parlamento che ha delle regole certe entrerà nell'ambito della possibilità dove tutto può essere fatto. Il Senato può disporre di trattare le leggi. Dipende chi c'è alla maggioranza. Dipende se vince il Movimento 5 Stelle perché si sono lasciati la libertà di poter bloccare l'eventuale vittoria del Movimento 5 Stelle è quello che noi possiamo fare. È importante che votiamo il no perché lo stesso Presidente della Repubblica può nominare cinque senatori. È tutto nel può. Potere. Il potere non è la certezza. Non è trasparenza. e l'Italia è già sotto la Romania e la Grecia per qualità di trasparenza. Noi vogliamo invece che la Costituzione resti venga applicata che ci siano maggiori spazi di democrazia perché la democrazia è la risorsa del Paese e il Paese deve andare in un'altra direzione. Deve recuperare le vere priorità che sono la tutela della cultura la tutela dei beni paesaggistici la tutela della nostra realtà di un'Italia meravigliosa dell'enogastronomia e non quello che sta accadendo una distruzione perché in realtà abbiamo abbiamo permesso a questo governo di poter fare lo scempio di poter azzerare addirittura la specificità del corpo forestale che tutelava quella che era la nostra vera ricchezza allora io chiudo perché passo la parola agli altri purtroppo Alessandro non sarà presente con noi può fare un collegamento perché non ce l'ha fatta passo la parola ma siamo tutti qui siamo tutti forti uniti e passo la parola a Dalila Nesci buonasera a tutti grazie per per essere qui io vorrei fare con voi una riflessione molto breve perché secondo voi dei parlamentari della Repubblica oltre Alessandro Di Battista che purtroppo non è qui è ancora alla Camera noi siamo arrivati poco fa è veramente complicato non sempre possiamo coinciliare tutti quanti gli impegni però siamo qui abbiamo fatto questo tour in tutta Italia in diverse piazze d'Italia perché il nostro purtroppo è un paese che è semi libero per libertà di informazione quindi noi siamo costretti a raccontarvi in viva voce senza mediazioni quello che noi viviamo dentro quei palazzi e come è nata e si è definita questa riforma costituzionale che non è nemmeno degna di essere chiamata tale allora io vi parlerò della sanità perché con questa riforma si vorrà ulteriormente centralizzare questa materia ma non per garantire servizi uguali a tutto il paese anzi al contrario per incentivare le differenze le disuguaglianze delle qualità dei servizi fra nord e sud e perché perché si centralizzerà soltanto la programmazione teorica dei fabbisogni sul territorio e poi spetterà alle regioni l'erogazione degli stessi con le risorse che le regioni hanno quindi con l'ipocrisia di un governo che fa finta dall'alto di programmare un servizio sanitario nazionale quindi unitario equilibrato ma in realtà sappiamo quali tagli impone agli enti sul territorio ve ne ha parlato prima immagino Barbara Lezzi noi abbiamo contato soltanto che nella sanità dal 2012 al 2015 sono stati tagliati 25 miliardi di euro e che in questo documento di economia e finanza di questo governo ne sono previsti per oltre 10 miliardi allora è chiaro qual è la visione di questo governo che come quelli passati non è stato eletto da nessuno l'obiettivo qual è smantellare pezzo a pezzo la sanità pubblica perché loro vogliono avvantaggiare in maniera sub quella privata in maniera scorretta perché noi sappiamo bene che il servizio sanitario nazionale pubblico può essere integrato dal privato ma non può essere sostituitivo del pubblico perché oggi il dato è che 11 milioni di italiani già non accedono alle cure sanitarie allora non facciamoci dire da altri sostenuti da poteri forti quali sono i nostri bisogni perché loro ci hanno rassegnato a questo ci hanno convinto che è meglio non andare più a votare è meglio disinteressarci della cosa pubblica quando invece è la nostra vita privata che dipende dalla cosa pubblica allora hanno cavalcato l'ignoranza e la disinformazione compice il sistema pubblico radio televisivo perché vengo dalla vigilanza RAI e la RAI ormai è in marcia completamente facciamo esposti interrogazioni pretendiamo ciò che ci è dovuto ciò che per legge dovrebbe e invece sono degli impuniti signori allora se noi non ci svegliamo e la smettiamo anche di ragionare sempre pensando che un leader ci salverà che una forza politica ci salverà noi non salveremo nessuno signori o veramente ognuno di noi alza la testa e diventa artefice del proprio destino senza seguire l'onda mediatica o questo paese veramente definitivamente sarà smantellato anzi ci hanno già svenduto perché quando ci hanno tirato dentro la truffa dell'euro era già pronto il servizio al nostro paese vi ricordate quando privatizzavano la banca d'italia quale forza politica è scesa nelle piazze e ci ha raccontato cosa stava accadendo oggi invece noi lo facciamo scendiamo le piazze e ve lo diciamo quando arriverà la dittatura non ci dofonerà le nostre porte e dirà sono arrivata quando ce ne accorgeremo sarà forse troppo tardi allora rendiamoci conto del momento storico che viviamo scusate e semplicemente facciamo la nostra parte allora lì sì che poi potremmo dire di aver fatto il possibile perché noi vogliamo continuare a vivere in questo paese e non fare come le centinaia di migliaia di persone amici parenti e colleghi che sono già andati via forza buonasera e grazie ciao l'Aquila buonasera a tutti ciao grazie grazie a tutti voi di essere qui anche con questo tempo veramente non troppo clemente nei nostri confronti ma tanto non ci fermeranno quattro gocce di pioggia non ci fermerà la neve che abbiamo preso in Val d'Aosta il 10 novembre e sicuramente continueremo ad informare tutti dobbiamo farlo insieme dobbiamo farlo insieme e dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che si stanno battendo per farlo non dimenticate che tutto quello che vedete qui oggi questo palco queste telecamere le persone che si stanno oggi impegnando si sono presi mezza giornata per venire qui e allestire tutto questo sono tutte persone che non prendono un euro di finanziamento pubblico perché il Movimento 5 Stelle è stata l'unica forza pubblica l'unica forza politica a non prendere finanziamento pubblico tutti quanti ve l'hanno promesso ma noi siamo rimasti gli unici a farlo avete dei consiglieri regionali qui fantastici che si sono messi dentro un camper si sono messi dentro un camper e da 60 giorni stanno in giro per l'Abruzzo ma l'avete mai vista fare sta cosa a qualcun altro sì oppure no l'avete mai vista fare sì oppure no ecco che cosa dovete votare il 4 dicembre è così che funzionano le cose quando vedete quando vedete qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo che veramente gli sta a cuore ma secondo voi vincesse il sì o vincesse il no a questi ragazzi a queste persone cosa cambierebbe nella loro vita pensateci un attimo cambierebbe la loro poltrona no tanto finiranno la legislatura comunque io vengo da Avellino una cittadina dell'Irpinia che ha subito un terremoto forte quanto il vostro e conosco esattamente quali sono le conseguenze del terremoto perché a distanza di 36 anni il 23 novembre è stato l'anniversario del 36esimo anno ancora ne viviamo le conseguenze viviamo nelle nostre cicatrici nel centro storico ci sono dei palazzi ancora che devono essere ricostruiti ma non ve lo dico per scoraggiarvi ve lo dico per darvi ancora più forza perché io sono qui proprio per questo perché non verrò mai a prendere un voto qui all'Aquila ma sono qui per difendere il sacrosanto diritto di avere una costituzione comprensibile e di avere una costituzione che io voglio decidere se cambiarla o no e non voglio farla cambiare a Renzi e Boschi e Verdini questa è la differenza tra noi e gli altri non facciamo la lotta per le poltrone non ci interessa nulla questi sono 47 articoli 47 articoli immaginate di cambiare un terzo della nostra costituzione datemi un motivo per farlo datemene uno quale dovrebbe essere un motivo la semplificazione mi hanno detto tutto più semplice tutto più facile e allora vorrei farvela vedere la semplificazione facciamo vedere la semplificazione non piove più facciamo vedere come si fa a semplificare secondo Renzi la riforma della costituzione come semplifica la costituzione allora guardate qui l'articolo 70 questa è la costituzione attualmente in vigore che dice con nove parole molto semplici che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere questo articolo lo si può imparare a memoria è molto chiaro l'ho stampato in aria all'84 orizzontale quindi chiunque a casa può fare questo esercizio questa è la nostra costituzione attualmente in vigore se doveste votare sì invece dei due processi legislativi andiamo a semplificare dice Renzi vediamo come si semplifica datemi una mano da giù perché ho bisogno del vostro aiuto da giù da sotto lo prendiamo ecco così ecco prego piano piano fatelo passare tra gli amici vai 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 fallo andare questo è l'articolo 70 secondo la riforma che dovrebbe semplificarlo grazie all'intervento di Renzi boschi e verdini prego partecipate a questo esercizio le cose bisogna conoscerle per deliberare diceva qualcuno chi vuole votare sì venisse a leggermelo adesso prego c'è qualcuno che vuole votare sì me lo viene a leggere adesso siamo qui una mezzoretta insieme così capiamo quali sono i processi legislativi e come si semplificano adesso tutti quelli che avranno l'articolo 70 sulla testa dovranno tenerlo in piedi perché sennò lo bagnate mi raccomando continuate no no ce n'è ancora perché bisogna rispettarlo tutto questo qui finito finito basta non possiamo arrivare fino a coppito ragazzi sta qua allora voglio semplicemente farvi notare che questo articolo non è chiaramente la boschi dice 5 minuti in più per leggerlo 5 anni in meno per fare le leggi come fosse un detersivo li stanno vendendo l'omino bianco invece del del che ne so del mastro lindo siamo a questo livello lo chiamano aggiornamento della costituzione come fosse il software del telefonino bisogna cambiare per aggiornare questa roba qui inserisce dagli 8 ai 10 nuovi processi legislativi anche i costituzionalisti che sostengono il sì dicono che questo articolo complica il processo legislativo quindi sono delle bagnate l'unica cosa che cambia questo articolo è che ci fa andare a passo con gli altri paesi come come in america ci sono le yard come in inghilterra ci sono i pollici noi avremo una nuova unità di misura l'articolo 70 misureremo i palazzi con l'articolo 70 8 metri virgola 6 ecco quanto quanto è lungo l'articolo 70 questa sarà la differenza tra prima e dopo questa è la semplificazione del governo Renzi dobbiamo dirci altro dobbiamo dirci che il signor Franceschini mi ha spiegato perché hanno scritto così una cosa incomprensibile che non si capisce nulla perché voi se provate a leggerla forse possiamo anche iniziarla a ritirare chissà quanto ci vorrà prima che riusciamo a chiuderlo comunque io ho capito per quale motivo l'hanno scritto così perché Franceschini il ministro della cultura ha detto in televisione questa riforma ascoltatemi un attimo ha detto Franceschini che questa riforma voi non la dovete capire non la dovete capire perché scusate che facciamo le riforme io ero convinto che le leggi fossero fatte per farle comprendere ai cittadini in modo tale da renderle più facilmente attuabili cioè che tutti quanti le rispettassino perché le avremmo capite e invece il ministro della repubblica ci dice che questa riforma non deve essere capita ma deve produrre un effetto e io anche qui ho la diapositiva come dice Renzi dell'effetto che produrrà non sarà soltanto l'allungamento incomprensibile dell'articolo 70 e del modo di fare le leggi che avremo in questo paese che sarà sempre più complicato ma verrà fuori una cosa ancora più incredibile che è ancora più grave e queste due cose insieme vi faranno capire i motivi per cui bisogna votare no perché questo in caso di vittoria del sì all'articolo 57 di questa riforma costituzionale c'è scritto che se vince il sì il nostro nuovo senato sarà composto in questa maniera quindi il senato non viene abolito rimane in piedi e sarà composto così 57 senatori scelti tra consiglieri regionali e sindaci del partito democratico quindi persone non elette perché signori in questa piazza chi ha più di 25 anni perdonatemi se lo chiedo alle signore chi ha più di 25 anni può alzare la mano cortesemente tutti voi tutti voi non riceverete mai più la scheda per votare e scegliere i vostri senatori lo farete a questa elezione e basta a questa elezione deciderete se votare sì darete in mano al partito democratico starete automaticamente votando per 57 senatori del partito democratico questa immagine la stiamo facendo vedere in tutta Italia l'avete vista in televisione l'avete vista a Rai 1 l'avete vista a Rai 2 perché? perché lì è tutto monopolizzato da Renzi che vi deve far credere che se vince il sì voi vi dimagrite dimagrite siete più belli più alti sarete fantasi il quesito dice che voi se votate sì dimagrite 30 chili però il problema è che vi tagliano un braccio per farvi dimagrire 30 chili questo è il problema perché questo senato sarà così 57 saranno del PD 28 del centrodestra 5 di gruppo misti misti vari misto fritto visto che è il caso di dirlo dal momento che Vincenzo De Luca per un sì vi offre anche due fritture di pesce lo so che questa cosa fa ridere ma si chiama voto di scambio si chiama clientela si chiama criminalità si chiama schifezza la politica applicata alla schifezza la schifezza applicata alla politica è così che funziona e questo signore questo signore che si chiama De Luca potrà entrare in questo senato avendo l'immunità parlamentare ma vi immaginate questa gente che oggi già impunemente continua a commettere reati va all'interno di un senato e si prende pure l'immunità parlamentare questa cosa non si può fare 57% ha un partito che ha meno del 30% cioè questa roba significa un sovvertimento della volontà democratica che noi non ci possiamo permettere ed è per questo che il 4 dicembre dobbiamo andare a votare no e questo è il motivo per farlo quale altro motivo vi serve ancora grazie grazie a Mirko grazie a Enza che mi hanno aiutato se no qui era difficilissimo allora qual è il motivo qual è il motivo per andare a votare diversamente da no io non voglio modificare 47 articoli con un tratto di penna in una cabina elettorale noi siamo abbiamo una responsabilità grandissima io parlo agli indecisi stanno dicendo di tutto ho sentito dei ragazzi che lavoravano al monte dei Paschi di Siena che gli hanno detto che se vince il sì il monte dei Paschi di Siena si salva e loro possono riavere il posto di lavoro il monte dei Paschi di Siena è fallito perché la banca del partito democratico che faceva i prestiti senza garanzia a delle persone che poi indietro gli davano i voti è così che è fallita la banca più antica del mondo è così che è resistita alle guerre resistita alle pestilenze ma non è sopravvissuta al partito democratico è così che è andato il fallimento di queste banche è così per Banca Marche Carichieti Cari Ferrara Banca Etruria del papà del ministro Boschi cos'altro serve che cos'altro serve per andargli a dire un no grande quanto una casa nell'urna il 4 dicembre cos'altro ci serve io vorrei che qualcuno qui mi dicesse guarda Carlo non è trattato questo argomento non è vero forse una cosa positiva ci sta ma io mi butto tra poco perché voglio dirvelo dovete sentirmi dentro proprio la folla perché è così dovete riprendere queste informazioni e darle a tutti i vostri amici ve le stanno dicendo tutte un signore qui prima mi ha fermato tra di voi mi ha detto guarda che nelle zone del terremoto Arquata ad Amatrice stanno dicendo che se vince il sì allora arrivano i soldi se vince il no non gli arrivano più cioè sono dei delinquenti stanno usando queste manovre delinquenziali noi non glielo possiamo permettere e allora l'unica cosa che abbiamo da fare è semplicemente sentire questa grossa responsabilità e andare veramente ma non a convincere le persone noi dobbiamo convincere nessuno dobbiamo solo spiegarglielo dobbiamo farglielo leggere l'articolo 70 fate sedere le persone che vogliono votare sì fatene sedere accanto a voi e leggetele insieme l'articolo 70 alla fine gli chiedete l'hai capito? quando l'avranno capito andranno a votare sì no quello che gli pare ma se non lo capite per cortesia andate a votare no e fate andare a votare no gli amici i parenti i familiari in tutta Italia in tutto il mondo perché questi si comprano il voto anche all'estero hanno trasformato hanno trasformato la revisione il cambio la modifica la Costituzione in un voto politico di ultima ordine è una cosa troppo importante per la scegliere in mano hanno distrutto già tutto io vi chiedo una cosa perché sta passando anche il messaggio che il sì è il voto del cambiamento ma voi mi dovete dire anche una cosa e ce lo dobbiamo dire in faccia qui sono due anni e mezzo che c'è Renzi anzi tre anni e c'è la maggioranza del partito democratico se vince il sì il 5 dicembre avremo Renzi e la maggioranza del partito democratico ma allora di quale diavolo di cambiamento stiamo parlando se le persone sono sempre le stesse l'unica chance se ce n'è una di ribaltare questa sedia di questo signore e di questo governo che ha fatto solo danni perché ha toccato i diritti della scuola con la buona scuola e ha distrutto i diritti della scuola ha toccato i diritti dei lavoratori con il Jobs Act e ha distrutto i diritti dei lavoratori ha salvato le banche invece di salvare i risparmiatori cos'altro deve fare più allora se c'è un solo voto che può dare una scossa a tutto questo un cambiamento a tutto questo è il voto no il 4 dicembre all'interno di quell'urna è l'unica chance che abbiamo non ce ne sarà una seconda e a quelli del Movimento 5 Stelle i simpatizzanti quelli che ci seguono da vicino che in fondo pensano ma alla fine se vince il sì poi dopo voi andate a vincere le elezioni con l'Italicum ci pigliamo tutto non è così ve l'ho mostrato quel Senato non potrà più cambiare per i prossimi 30 anni è una seria ipoteca perché prima che andiamo a vincere tutte le elezioni in tutte le regioni questi qua vanno fatto carne di porco dei nostri diritti e non non ce lo possiamo più permettere il mondo il mondo va verso va verso la democrazia diretta il mondo va verso la scelta vostra siete voi se oggi qualcuno di voi venisse qui a spiegare i suoi motivi del no non ci sarebbe alcuna differenza tra voi e noi e questa è la più grande vittoria del Movimento 5 Stelle è quella già di aver rivoluzionato questo paese di aver dato la dignità ai cittadini di non aver più posto le auto blu e le forze dell'ordine tra noi e voi io qui ci sono venuto con la mia auto a metano ed è fantastico imparare e continuare a guidare diversamente da come fa questo signore che si fa portare in giro con gli elicotteri con le auto blu è andato a potenza con il renzicottero e allora è questa la differenza rimanere normali rimanere normali rimanere persone normali così come devono essere dei dipendenti dello Stato italiano esattamente quello che siamo noi per voi è questa la differenza quindi se vi stiamo dicendo questo è soltanto perché questo messaggio debba arrivare a tutti in ogni angolo della nostra nazione noi qui ci giochiamo tanto questo paese questo mondo sta andando verso la democrazia diretta verso la vostra scelta voi avete in mano degli strumenti potentissimi che grazie alla rete possono diffondere informazioni grazie a degli strumenti che vi mettiamo a disposizione come Rousseau potete fare le leggi insieme a noi un idraulico ci può dire qual è la sua necessità all'interno di una legge per l'energia se noi dobbiamo fare una legge per modificare lo stato energetico delle nostre case un idraulico ci può dare una mano un fallegname altrettanto è questa la rivoluzione che stiamo ribaltando questa riforma costituzionale invece mette una corazza addosso a questa gente che vuole tenersi tutti i privilegi dal primo all'ultimo e noi il 4 dicembre dobbiamo dirgli assolutamente di no no e poi no questo è quello che dobbiamo andare a dire il 4 dicembre grazie a tutti grazie all'Aquila e vi lascio a mio collega che si chiama Mirko Busto che stimo tantissimo e che sta facendo delle battaglie favolose contro l'olio di palma contro l'alimentazione iscorretta e contro queste multinazionali che pensano solo al loro profitto e vi dico che tutto questo che stiamo facendo qui quello che vedete qui è in pericolo se il 4 dicembre non vinca il no quindi grazie ancora andate a votare no vi passo prima allora ci dovrebbe essere una sorpresa o meglio una sorpresa una cosa che cerchiamo di risolvere perché purtroppo ci sono stati dei problemi sull'autostrada un po' di traffico e le votazioni in aula voi dovete anche capire il fatto che cerchiamo di essere dappertutto e quindi non abbiamo più il dono dell'ubiquità ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando stiamo facendo una legge per introdurre l'ubiquità per i parlamentari del Movimento 5 Stelle però non è facile e quindi siccome non ce l'abbiamo ancora stiamo cercando di far raggiungere i nostri colleghi anche telefonicamente quando possiamo devo dire che ci proviamo veramente con tutti i mezzi quei pochi mezzi che abbiamo però è giusto anche che tutti voi possiate sentire la voce di ognuno delle persone che voleva veramente essere qui con tutto il cuore ma non ci è riuscito per il momento no come facciamo per il momento pronto ah ecco ciao a tutti ah è Alessandro Alessandro ciao in primis mi sentite? allora in primis scusate siamo stati con Gianluca e Daniele Delgrosso e Gianluca Vacca non sono ancora arrivati infatti stanno stanno arrivando considerate che abbiamo avuto dei problemi siamo rimasti alla camera un po' fino a tardi un imprevisto siamo usciti tardi per cui loro stanno arrivando il problema è che io domani tutti quanti noi staremo di nuovo a Roma per la marcia appunto che faremo la camminata a difesa della Costituzione per cui per me era diventato impossibile difficile vi prometto che tornerò all'Aquila il prima possibile quindi scusatemi però ieri ero in Sardegna stiamo dando il massimo e ogni tanto capita tutto qua soltanto questo vi prometto che tornerò presto i miei colleghi avranno già parlato di una serie di questioni io voglio voglio soltanto dirvi due mie idee chiaramente pericolose rispetto alla possibile vittoria di Sì uno già l'hanno detto immagini i miei colleghi nel momento in cui il Senato della Repubblica verrà scelto di fatto dai partiti politici gli stessi che ci hanno impoverito ed hanno presentato leggi su leggi poi anche giudicate incostituzionali mi pare che pochi minuti fa addirittura un decreto del super ministro Madia è stato in parte giudicato incostituzionale ecco gli stessi partiti nomineranno tra di loro i senatori questo crea un problema perché quel che abbiamo capito è che la qualità delle leggi dipende da quanto i parlamentari sono collegati assolutamente in maniera precisa con i territori nel momento in cui sono i partiti politici a sceglierli a nominarli i parlamentari di fatto risponderanno ai partiti politici e non al popolo italiano la seconda cosa che vi dico ed è fatta proprio in maniera sporca se andate sulla mia pagina facebook di Carlo ma penso che Carlo Fittira ve l'abbia mostrato poc'anzi quel cartello ma vi rendete conto che questi soggetti che parlano di democrazia qualora dovessero vincere i sì il giorno dopo senza che il popolo appunto sia stato messo in condizioni di esprimersi con un voto produrranno un senato dove il 60% sarà composto da senatori del partito democratico dato che il partito democratico governa la maggior parte delle regioni cioè l'hanno fatto apposta è come se noi che abbiamo vinto a Torino e a Roma presentassimo una riforma costituzionale con scritto il futuro senato della Repubblica verrà composto a maggioranza con la scelta da parte dei consigli comunali soltanto dai consiglieri comunali provenienti dai comuni di Roma e Torino dove in questo momento il Movimento 5 Stelle è chiaramente la maggioranza perché ha vinto le elezioni così per avere la maggioranza senza il voto del popolo italiano e dovete sapere che il futuro senato non è vero che non conterà nulla perché le future riforme costituzionali o le leggi europee le vota per cui qualora noi dovessimo vincere alle prossime elezioni magari alla Camera perché il senato verrà come sapete sarà comunque maggioranza del partito democratico anche se il PD dovesse prendere una batosta elettorale e noi dovessimo presentare delle riforme costituzionali per l'abolizione dell'immunità parlamentare e per l'obbligo di dimissione questo è un nostro obiettivo l'obbligo di dimissione per i politici che cambiano casacca ovvero che passano da un partito all'altro una volta che sono stato eletti perché questa è una cosa drammatica le riforme oscene passano grazie alla compravendita tra virgolette il mercato delle vacche all'interno del Parlamento ecco qualora noi dovessimo presentarle non potrebbero passare senza il voto favorevole del futuro senato che sarà composto il giorno dopo qualora dovessero vincere sì a maggioranza dei senatori del partito democratico perché l'hanno fatta sporca in questo modo queste sono le riforme costituzionali servono e concludo a dare più potere alla stessa classe politica che attualmente è al potere e ha utilizzato il potere per se stessi e non per il bene dei cittadini italiani vi prometto che presto tornerò all'Aquila tanto ci sono i miei colleghi vi abbraccio non molliamo domani se potete chi può venire appunto faremo una passeggiata a difesa della Costituzione da Basilica San Paolo a Roma fino alla bocca della verità speriamo di essere in tanti e speriamo che il 4 dicembre tanti tanti cittadini italiani non si faranno fregare dalla propaganda di regime grazie siamo entrati in Parlamento ormai quasi 4 anni fa siamo entrati dicendo una cosa che non si diceva da tanto tempo vogliamo fare la politica per le prossime generazioni non la politica per le prossime elezioni l'abbiamo detto e stiamo facendolo cosa vuol dire fare politica per le prossime generazioni innanzitutto comunicare valori il valore che noi stiamo comunicando il valore dell'onestà il valore che è possibile portare avanti una politica non nell'interesse proprio ma nell'interesse di tutti gli italiani e come lo comunichi un valore così difficile così difficile perché tanti l'hanno detto tantissimi l'hanno detto ma nessuno l'ha fatto lo comunichi grazie signora dando l'esempio la comunicazione la fai con l'azione quindi ti tagli lo stipendio e dai indietro i soldi che non spendi delle diarie questa è comunicazione di valori ma grazie bastava una legge ordinaria l'hanno votato contro l'hanno rimandata in commissione ma va bene parliamo di altro perché non c'è soltanto questo una politica per le prossime generazioni non è soltanto comunicare valori è riuscire a pensare ai problemi a quello che affronteremo a quello che dobbiamo affrontare al grande cambiamento che dobbiamo portare avanti e il grande cambiamento io lo affronto soprattutto dal punto di vista ambientale perché vengo sono ingegnere ambientale lavoravo nella ricerca sono entrato qua dentro per dare il mio contributo in questa direzione e allora di cosa dovremmo parlare oggi noi in Italia di cosa dovremmo parlare sicuramente dovremmo parlare di tanti temi tantissimi temi la disoccupazione c'è un grande problema di disoccupazione di povertà che cresce ma ci sono grandi temi ambientali se voi girate i gruppi del Movimento 5 Stelle in giro per le città i problemi che ti riportano sono quelli della gestione dei rifiuti che è in mano alla criminalità organizzata ti dicono che c'è il problema degli inceneritori c'è il problema delle emissioni inquinanti che ammazzano le persone noi vediamo qualcosa di straordinario stiamo per la prima volta vedendo nella storia di questo paese un ritorno degli ultimi 50 anni un ritorno un accorciamento della durata della vita quello che stiamo vivendo è che moriamo sempre di più per l'inquinamento e allora noi secondo me dovremmo parlare di questo dovremmo parlare di cambiamento climatico dovremmo parlare di trasporti sostenibili dovremmo parlare di una grande riforma di un grande cambiamento di come facciamo l'energia una transizione energetica per fare l'energia 100% rinnovabile per non crepare mentre facciamo la nostra energia per non crepare di cambiamento climatico per non crepare per le polveri sottili che respiriamo ecco e allora io sono arrabbiato sono arrabbiato perché parliamo di una cosa che non interessa a nessuno nessun cittadino italiano ha il problema che in Italia bisogna riformare la costituzione perché ci sono poche leggi e dobbiamo farle più in fretta dove sta scritto che sono troppe leggi troppe leggi loro dicono la signora mi dice tutto va bene dove sta scritto che in Italia dobbiamo fare più leggi e dobbiamo farle più in fretta noi non sappiamo quante leggi abbiamo in Italia non lo sa nessuno pensate se voi guardate non c'è un posto dove c'è scritto quante leggi ci sono in Italia non lo sa nessuno e allora ti dico no c'è bisogno di fare più in fretta più leggi dobbiamo essere brillanti dobbiamo essere veloci dobbiamo fare in fretta e allora la signora me l'ha detto prima mi faccia aiutare la legge Fornero l'hanno approvata in quanto? 17 giorni 17 giorni quando hanno voglia di far approvare qualcosa che gli interessa fanno in fretta e allora non c'è un problema di velocità ma poi ragioniamo di una cosa scusatemi se la legge Fornero l'avessero approvata in una settimana in più e magari si fossero accorti degli esotati non sarebbe stato meglio ma il tempo è l'unica variabile no il punto è fare le leggi bene nell'interesse della collettività nell'interesse di tutti noi e allora ragioniamo su una cosa se voi date potere a pochi perché questa costituzione questa riforma costituzionale che cosa fa? toglie potere ai cittadini toglie potere alle autonomie locali toglie potere alle regioni e lo dà al governo al governo toglie il senato toglie la possibilità noi di scegliere chi ci rappresenta nel senato e dà potere al governo cosa vuol dire? vuol dire pensate la logica è una logica seducente perché ci dicono eh tutto questo tempo a discutere e c'è il senato c'è la camera tutto uguale e le navette che vanno su le navette che vanno giù perdono un sacco di tempo un sacco di carta sporcano ecco in tutta questa perdita di tempo ok invece c'è uno che decide ah che bello si fa in frettissima decide uno solo e riesce a fare tutte le leggi in fretta ci pensate la logica è questa JP Morgan che cosa ha detto JP Morgan non l'avete letto? JP Morgan ha detto dobbiamo riformare le costituzioni di stampo socialista che uscivano dal fascismo perché erano troppo inclini a dare potere ai cittadini e poco potere al governo quindi intracciano fanno perdere tempo e allora ragioniamo su questa cosa perché questa idea seducente ci cancella un principio primo la costituzione l'hanno scritta così perché uscivamo appunto dal fascismo e avevano paura che qualcuno prendesse il potere e lo usasse in una direzione per tenerselo per mettere insieme un'altra dittatura e allora i pesi e i contrapesi sono pensati per questo semplicissimo motivo dobbiamo proteggerci proteggerci da derive autoritarie secondo motivo quando hai tante persone che decidono è vero bisogna avere una volontà politica comune bisogna trovare un punto d'incontro non è facile è vero che non è facile se voi avete mai fatto parte a un gruppo del Movimento 5 Stelle sapete quanto è difficile trovare un punto d'incontro tra tante persone però ricordiamoci che cosa vuol dire ricostruire la comunità degli italiani ricostruire la comunità degli italiani significa riuscire a trovare un punto d'incontro tra di noi a trovare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide l'esercizio della democrazia e allora dare il potere a una persona che cos'è dare il potere a poche persone soltanto al governo che cosa vuol dire vuol dire impoverire la vita democratica la democrazia e potenzialmente metterci in una direzione di una deriva antidemocratica e in più vuol dire un'altra cosa non fare le leggi nell'interesse di tutto perché ricordiamoci una cosa se tu sei un lobbista e rappresenti l'interesse che ne so della lobby delle fossili o della lobby dell'energia o della lobby che ne so degli inceneritori ecco se tu rappresenti una lobby quanto ti è più comodo pagare e oliare poche persone piuttosto che pagare tutto un parlamento quanto ti conviene e questo lo vediamo guardate l'Europa in Europa ci sono più lobbisti che parlamentari ce ne sono una ventina una trentina per ogni parlamentare europeo lobbisti che portano gli interessi di pochi e fanno fare le leggi nell'interesse di pochi oggi noi e chiudo abbiamo una situazione della distribuzione della ricchezza che sta peggiorando drammaticamente l'1% dei ricchi del pianeta detengono il 49% delle ricchezze del pianeta e questa riforma va nella direzione di aiutarli a mantenere questa condizione di potere perché significa togliere il potere ai cittadini e darlo ai servi delle lobby ai servi delle banche ai servi dei finanzieri e allora dobbiamo fermarlo dobbiamo riuscire a fermare questa deriva e qua centrate voi centrate voi perché avete visto la RAI è occupata sono usciti i dati sono mostruosi RAI governo più maggioranza hanno oltre il 50-60% degli occupazioni degli spazi le pubblicità io accendi youtube ti prendi la pubblicità del sì ci sono i bambini che non capiscono poverini non capiscono questa costituzione vecchia non la capiscono bisogna riformarla capisci usano delle leve vergognose scrivono un quesito che sembra la pubblicità del Dick Sun ve l'hanno già detto dai ci pigliano per il culo e allora noi dobbiamo fare questo lavoro l'unica forza che abbiamo come cittadini è quella di andare a parlare tra di noi e parlare con intelligenza mi raccomando dobbiamo parlare con strategia cosa vuol dire non dobbiamo mandarli solo a fanculo se uno ti dice però bisogna cambiare qualcosa perché c'è tanti anni che non cambia uno cosa gli viene da dire dai lo manderesti a stendere no dobbiamo essere calmi dobbiamo essere tranquilli pacati e riuscire a dire no guarda e argomentare con tutte le argomentazioni che stiamo aiutandovi anche noi nel nostro piccolo dandovi ogni volta che andiamo a parlare in giro quindi ognuno di noi deve fare la propria parte salviamoci e mettiamoci in una strada di vero cambiamento il cambiamento che dà di nuovo la sovranità al popolo italiano grazie adesso arriva Andrea Colletti e scusate ciao ciao a tutti allora io vorrei fare un passaggio ulteriore di quello che ha fatto Mirko che è molto importante quanti di voi stanno parlando del referendum costituzionale in famiglia con gli amici quanti di voi stanno magari litigando su questo referendum costituzionale perché vedete e questa è la cosa più grave la costituzione dopo il fascismo e dopo la guerra è quella che ci ha unito e ci ha portato avanti adesso questo referendum ci sta dividendo ci sta lacerando ci sta facendo litigare fra amici fraterni non possiamo neanche più andarci a prendere un caffè con quelli che votano all'altra parte ed è questa la cosa peggiore di questo referendum perché quello che ci dovrebbe unire ci sta dividendo e noi possiamo accettare intimamente questo modo di fare perché lo avete visto è un modo di fare continuo a tre anni a questa parte cercare di dividerci ma un popolo interamente diviso al proprio interno come potrà rispondere a quelle grandi forze economiche che possono smuovere miliardi di euro modificando le borse in realtà la nostra divisione fa il gioco di coloro che ci vogliono sempre più poveri sempre con meno diritti è come la guerra fra poveri noi diciamo additiamo quelli che ci hanno il posto di lavoro e a cui hanno tolto articolo 18 se lo meritano perché io sono disoccupato però a me disoccupato cosa mi porta questo governo niente non mi porta un reddito di cittadinanza e quindi è questo il gioco a cui noi dobbiamo dire no ma no non solo perché nel merito è sbagliata questa riforma ma anche nel modo in cui ci pone dopo questa riforma anche se dovesse passare il nome mettiamo caso noi avremo sempre un paese diviso io personalmente non voglio vivere in un paese diviso io voglio vivere un paese che si riconosce in certi diritti e che lotta insieme per certi diritti e questa è l'importanza della Costituzione farci vivere insieme in regole in principi fondamentali in regole importanti e da allora sulla base di quelle regole di condivisione sociale di vita di vita unita sulla base di queste regole poi potremmo discutere in un Parlamento magari anche votato legittimamente su non solo la prescrizione su una legge anticorruzione ma se non siamo d'accordo sulle grandi nostre leggi che è la nostra carta costituzionale come potremmo essere d'accordo su quelle leggi che dovremmo andare a modificare per fare il bene del paese e questo io sono una persona molto calma e tranquilla però questa è una cosa che per me è inaccettabile perché dimostra la piena arroganza del potere ora chi ha potere ha un'arma molto grande ma se questo potere viene usato anche con arroganza allora significa davvero che chi ha il potere non gliene frega niente di chi sta sotto e non sono paternalista però cosa fare contro un arrogante un clan di arroganti perché quello che abbiamo di fronte è un clan di arroganti io lo dico io sono contro la violenza assolutamente perché noi con il voto dovremmo modificare le cose ora se dovesse passare questa riforma metà voto neanche ce l'avremmo più però anche solo anche solo per scherzare contro questa gente arrogante ora ci vorrebbe ci vorrebbe mia nonna che purtroppo è morta tempo fa ma ci vorrebbe mia nonna perché mia nonna era una persona semplice e mia nonna cosa avrebbe usato contro questo il potere della scopa no una scopa e guarda è anche coperta non fa male ma perché a questa gente qua che gli devi fare cioè non spazzare via è una bella idea spazzare via ma con gentilezza come con l'acqua così si spazza via oppure con quelle borse di coccodrillo che avevano tutte le nonne degli italiani è una bella borsettata per fargli capire com'è la cosa ma senza violenza anche con gentilezza solo per farvi capire che non è con l'arroganza che si può governare un paese un paese si governa con la condivisione con l'ascolto degli altri non con l'arroganza io non voglio un governante che si arroga il diritto di decidere lui per tutti perché vive lì sopra nel colle e decide lui per tutti perché lui è il saggio nessuno di noi è così saggio non ha un potere ascoltare il prossimo io voglio vivere in un paese dove ci ascoltiamo e poi prendiamo decisioni non dove io prendo decisioni perché sono più intelligente di voi ma solo perché magari ho più il potere di voi questa è la deformazione troppo spesso ci dicono e lo avete sentito ultimamente giornalisti del Partito Democratico dicono eh ma dovemmo togliere un po' il diritto di voto dopo le elezioni americane e questi 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 democratici che passeggiano con lo champagne e caviale e che credono magari nei loro salotti negli attici di Roma ai parioli e credono che noi siamo il popolo il popolino becero che non sa cosa votare non sa come andare avanti e abbiamo bisogno che loro ogni tanto ci buttano delle briciole così noi siamo contenti e ci acquietiamo e questo che loro ascoltateli in tv con quanta sicumera sono troffi del loro sapere magari vi citano libri del cinquecento o Tocqueville senza neanche forse averlo letto ma ne sanno ne hanno la rimembranza di quello che hanno studiato durante scienze politiche o filosofia e l'università e però intimamente guardandoli in faccia si vede che odiano le persone si ritrovano nei loro salotti ma odiano le persone le schifano le persone che sono in mezzo alla strada e possiamo ascoltare questi cattivi maestri perché sono cattivi maestri che vivono grazie alle persone che hanno bisogno però senza queste persone se queste persone non avessero più bisogno questa gente non avrebbe più lavoro non saprebbe cosa fare non potrebbe più allisciarsi il potente di turno per avere un posto come direttore al TG1 o alla RAE o RAE 2 o RAE 3 e allora ci vorrebbe ma neanche uno scopone ci vorrebbe una sonora pernacchia a queste persone una pernacchia perché non possiamo più prenderle sul serio e quando discuterete con i vostri amici sul votare sì o no dovete farli capire guardate io voto no ma renditi conto che tu votando a favore di questa riforma che spacca le persone stai votando contro tutto il resto dell'Italia stai votando per non essere più vicini di casa per non essere più amici per non poterci più andare a prendere il caffè perché se mi prendo a male parole con uno un minuto prima e dopo il voto come posso pensare che lui che votava per contro il mio futuro possa poi essere un mio amico fraterno e andarci come se nulla fosse successo andare a prendere un caffè e allora è rifuggire da questo modo di fare per cui noi dobbiamo dire no no in realtà è una bellissima parola chi dice no ha coraggio perché chi dice sì è sempre accondiscendente al potere chi dice no sono coloro che si ribellano contro qualcosa che non va bene e allora torniamo un po' a un moto di ribellione ma che sia morale il moto di ribellione perché solo se cambiamo noi internamente possiamo dare il buon esempio all'esterno agli altri io sono convinto che se noi parlassimo in questo modo facendo capire che la divisione non aiuta nessuno allora davvero potremmo far ritornare questo paese non dico grande ai fasti del passato che neanche esistono ma un paese più giusto e più equo perché è quello che noi vogliamo vogliamo vivere in un paese più giusto un po' di giustizia è quello giustizia non chiediamo la luna nessuno si vuole arricchire a guadagnare milioni di euro ma voglio poter vivere bene con la mia famiglia ma soprattutto dare un futuro ai nostri figli perché magari mio nonno ha dato un futuro migliore al mio padre ma io ho 35 anni e mio padre purtroppo non ha dato un futuro migliore a me e io non potrò dare un futuro migliore ai miei figli ed è questa la cosa tragica invece di un futuro il sol dell'avvenire qualcuno diceva neanche citiamo queste cose invece di dare un futuro noi ci stiamo ingrigendo ingrigendo nel nostro passato ci stanno dicendo eh ma l'Italia è un paese di cultura sì è un paese di cultura ma cultura romana il rinascimento e cosa siamo adesso? stiamo raccogliendo raccogliendo e discogliendo quello che avevamo nel passato io a queste cose dico no io dico no per dire sia un futuro nel mio paese perché io non voglio espatriare vorrei che loro potessero espatriare dopo questo voto e ora vorrei passarvi Gianluca Cassaldi che è il nostro senatore grazie Andrea buonasera a tutti buonasera L'Aquila grazie di stare ancora qua sotto l'acqua un po' ma io sono molto incazzato scusate il termine perché eh come tutti perché poi dicono che Beppe usa dei termini forti come serial killer beh forse noi che siamo nelle istituzioni dobbiamo moderarli ma ha detto la verità oggi dalla legge di stabilità hanno tolto 50 milioni di euro che erano destinati ai bambini di Taranto dove c'è un incremento del 24% di malattie tumorali nei bambini per l'ILVA tolti 50 milioni di euro l'altra notte perché Emiliano si è messo contro la riforma e l'altra notte favorito un delinquente chiamiamolo per nome presidente di un'altra regione a cui è possibile dare il commissariato della sanità e se questi non sono serial killer chi è un serial killer quindi sono molto arrabbiato forse io essendo temporaneamente nelle istituzioni non dovrei usare questi termini però è così abbiamo visto troppo io sono uno di quelli che è entrato nelle istituzioni convinto di trovare lo schifo ma non quello che ho visto noi siamo in mano a persone veramente di bassa leva persone che ci hanno fatto credere che si dividevano in centrodestra centrosinistra moderate e dividevano noi che pensavamo di votare qualcosa di diverso io mi scontravo perdonami che ti prendo come esempio con te perché casomai tu votavi a destra io votavo a sinistra lei votava al centro e ci accaloriamo nei discorsi prendono tre voti il mio il suo e il suo sono tutti insieme fanno affari a discapito della collettività e la cosa che fa più rabbia è quello che viene fuori è un'informazione nazionale che non ci aiuta perché poi si fa una legge che fa arricchire pochissime persone a discapito di tutti gli si dà un nome accettabile e l'informazione fa in modo che venga divulgato un qualcosa che sembra buono questo avviene in Parlamento nella riforma qualche punto lo voglio toccare perché se no dici che siamo populisti beh noi abbiamo presentato 200 emendamenti alla riforma costituzionale noi e voi lo sapete perché seguite il movimento ma io mi auguro anche che ci sono persone che non votano il movimento perché il movimento ha un programma ed è anche giusto che qualcuno non lo condivida peccato che però se qualcuno pensa di votare un altro programma sapesse deve sapere che quel programma non lo porta avanti nessuno queste riforme costituzionali non erano in nessun programma elettorale non erano nel programma che Renzi ha presentato per fare il segretario di partito e quindi sono state imposte da qualche da qualcuno in maniera oscura e non dimentichiamoci il passato perché come è uscito questo qui così d'amblè peraltro pugnalando uno del suo stesso partito non dimentichiamo queste cose non le dimentichiamo e il diritto di voto è importante perché io non so chi di voi sa adesso chi è il presidente della provincia dell'Aquila per esempio o il presidente della provincia di Pescara ce li siamo già dimenticati esistono non li votiamo più ma esistono se li votano tra di loro i consiglieri comunali esistono andiamo nel merito della riforma primo problema la riforma ci viene proposta da un governo quando è stata fatta la costituzione Alcide De Gasperi si è seduto in mezzo ai parlamentari perché sapeva che la riforma doveva essere doveva essere discussa tra parlamentari e non col governo che impone perché votiamo perché votiamo il 4 di dicembre proprio perché questa riforma non è condivisa perché l'articolo 138 e io sono fiero dei ragazzi della Camera vi ricordate come li hanno presi in giro quando sono saliti sul tetto i grillini vanno sul tetto beh grazie a quel salire sul tetto meno male si vota perché i due terzi del Parlamento ci vogliono i due terzi del Parlamento per riformare la Costituzione e non c'erano perché non è condivisa noi abbiamo proposto 200 emendamenti cioè noi volevamo riformare lo Stato volevamo cogliere l'occasione di riformare lo Stato noi abbiamo proposto l'abolizione del Senato quindi quando sentite che il Senato è abolito sappiate che il Partito Democratico e il delinquente abituale Denis Verdini hanno votato contro quando hanno votato contro abbiamo proposto il dimezzamento dei parlamentari alla Camera e dei senatori che sarebbe stata una giusta riforma perché io che adesso vivo in istituzioni so quanto è necessario il bicameralismo quando c'è il passaggio all'altra Camera la modifica il controllo delle cavolate che combinano casomai nella Camera precedente beh hanno bocciato anche quello ma la cosa che vi deve far riflettere è che quando ormai era deciso che i senatori sarebbero stati 100 noi abbiamo proposto l'elezione di 100 senatori cioè ognuno di voi quando andava a votare per il Consiglio regionale votava anche la persona che avrebbe fatto il senatore e questi hanno votato contro quindi non c'è la volontà di portare gli elettori elettorati in Parlamento c'è proprio la volontà politica di portare 100 scendiletto loro che saranno i 100 più delinquenti di tutte le regioni d'Italia perché questo avverrà e lo sappiamo che avverrà questo e non li spostiamo più Carlo vi ha fatto vedere al Senato hanno lasciato dei poteri fondamentali due soprattutto le leggi trattate di derivazione europea se ci vogliamo imporre dovesse andare al governo il movimento ma io auguro ai miei figli di formare una nuova formazione politica auguro a loro di andare al governo con un altro programma non potranno più modificare quello che ci viene imposto e soprattutto il Senato ha potere su nuove riforme costituzionali se domani volessimo per esempio proporre come avete sentito il vincolo di mandato l'elezione del Senato i nostri temi ma i temi che migliorano la vita dei cittadini non possiamo farlo più perché si sono assicurati le istituzioni col Senato della Repubblica io ho una convinzione personale ma non penso di essere molto distante dalla realtà finché il voto non contava ci hanno permesso di votare nel 2013 questo popolo ha alzato la testa si è riunito sotto un simbolo sotto un simbolo che ha mille difficoltà ha mille problemi ma è un simbolo di persone per bene si è riunito sotto un simbolo sotto un programma che va verso i cittadini e ha preso nove milioni di voti ha rischiato di ribaltare questo sistema cliente rare e mafioso che ci governa ce l'hanno fatta a mantenere il popolo fuori però può risuccedere e allora hanno deciso di riformare la nostra carta costituzionale affinché anche se un domani il popolo avesse la forza di vincere ha la maggioranza la Camera ma non ce l'ha il Senato quindi io auguro a tutti non solo ai nostri elettori di andare a votare no di portare un'altra persona e prendersi l'impegno in questa settimana di spiegare la riforma alle persone che incontrate per strada per fargli capire l'importanza di questo voto che a mio modesto parere è il voto più importante che la nostra generazione si trova davanti buonasera l'Aquila e grazie della vostra attenzione Daniele del Grosso appena arrivato da Roma no ragazzi giusto un saluto perché abbiamo trovato un caos pazzesco a Roma siamo riusciti ad arrivare adesso io Gianluca Vacca e Giorgio Sorial che era con noi in macchina noi vi facciamo giusto questo saluto non vi vogliamo intrattenere oltre perché sappiamo che siete qui dalle 6 vi voglio dare solo una comunicazione sono usciti fuori gli ultimi sondaggi e dicono Renzi stai sereno quindi vi salutiamo così grazie vado io al volo buonasera a tutti sono Giorgio Sorial mi ha già presentato Daniele grazie ancora di essere qua finora hanno già detto tutti i miei colleghi è una riforma che dal punto di vista tecnico ci sono un sacco di cose da dire io voglio solo portarvi questa mia cosa simpatica perché se ce l'abbiamo fatta con mia madre che è la cosa più lontana dalla politica ognuno di noi può farcela e per farvi capire il livello vi racconto questo aneddoto con cui potete capire che anche le persone che sono lontanissime dalla politica possono oggi votare no mia mamma nel 2013 quando tornai a casa dopo qualche mese che eravamo in Parlamento mi disse hanno nominato un presidente del consiglio donna gli dissi no mamma guarda il presidente della camera la Boldrini gli disse no no un presidente del consiglio no mamma presidente della camera presidente del consiglio è un uomo no no l'ho sentito in televisione no mamma sì lei mi dice Nicoletta faccio mamma Enrico Letta ok mi ha la cosa più lontana dalla politica e lei ha finalmente capito di votare no a questa riforma costituzionale quindi se siamo riusciti a farlo capire a lei possiamo riuscire a farlo capire a tutti dateci una mano e facciamolo tutti insieme grazie a tutti Gianluca Vacca un saluto veloce anche io scusate per questo ritardo grazie per essere ancora qui brevemente io mentre venivo qua dicevo ma in questa bellissima città ferita sconoscete benissimo i problemi di questa città io pensavo ma giustamente gli aquilani in fondo potrebbero essere tentati a votare sia questa riforma pur di non vedere più che ne so un nome a caso la pezzopane magari in senato potrebbero anche dire ma magari un sì lo mettiamo così magari ce la togliamo dalle scatole la pezzopane però scherzi a parte attenzione da qui al 4 dicembre ci aspettano dei giorni particolarmente difficili noi non ci rendiamo conto ma questo è un momento fondamentale per il nostro paese quando noi giriamo molti quanti ci chiedono scusate ma voi Movimento 5 Stelle non siete d'accordo a tagliare i costi della politica non siete d'accordo a riformare le istituzioni allora perché votate contro questa riforma non volete abolire il CNEL abbiamo scoperto che esiste il CNEL quest'ente inutile che ancora sopravvive ma certo se fosse solo questo noi avremmo fatto avremmo girato l'Italia l'Abruzzo per dire sì votiamo sì avremmo votato sì a questa riforma ma noi abbiamo votato no voteremo no e stiamo facendo campagna per il no perché e vi dico l'ultimo esempio quello che è accaduto nei giorni scorsi in commissione abbiamo votato abbiamo discusso la legge di bilancio oggi abbiamo votato la fiducia l'ennesima fiducia pure sulla legge di bilancio abbiamo votato in tre giorni gli emendamenti in commissione contingentati con la ghigliottina perché loro più di pochi giorni non possono lavorare non possono stare in Parlamento abbiamo lavorato con i tempi contingentati con gli emendamenti contingentati di fretta e furia frettolosamente perché loro devono chiudere prima del referendum e perché devono chiudere la stabilità prima della legge di bilancio prima del referendum perché devono confezionare e approvare le marchette da dare a quelli che gli fanno propaganda per il sì una marchetta su tutte la marchetta forse l'avrete letta la marchetta per De Luca hanno approvato un emendamento per far permettere a De Luca di abrogare una legge che avevano fatto lo stesso governo Renzi e quindi permettergli di fare il commissario della sanità in campagna cosa che una legge del governo Renzi aveva detto che non si poteva più fare hanno approvato questo emendamento perché hanno oggi ho detto alla Camera quando sono intervenuto hanno istituzionalizzato il voto di scambio questo hanno fatto istituzionalizzato il voto di scambio ecco penso che di argomenti per votare no ne abbiamo tanti e se c'è qualcuno che ancora non è convinto fate questa prova ditegli di leggere l'articolo 70 leggesse l'articolo 70 vecchio cioè vecchio quello che c'è adesso e leggessero l'articolo 70 che invece vogliono modificare con la riforma Boschi se il nuovo articolo 70 gli sembrerà migliore più comprensibile del vecchio allora votasse sì ma se il nuovo articolo 70 gli sembrerà incomprensibile scritto in politichese fatto apposta per non far capire niente ai cittadini allora aprisse gli occhi e capisse che questa riforma è soltanto una grande fregatura per i cittadini è soltanto un modo per continuare a garantire alla casta i propri privilegi grazie a tutti e mi raccomando questi ultimi giorni mettiamocela tutta cerchiamo di convincere quante più persone possibili e se ci volete dare una mano noi ci autofinanziamo una magliettina un un adesivo anche un euro tutto quello che magari potete acquistare dal camper ci aiutano ci aiutano